Il nuovo anno si apre nelle nome della Madre di Dio e quanto ha affermato Papa Francesco presiedendo nella Basilica Vaticana la Santa Messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio e per la 51esima giornata mondiale della pace. Nella sua madre il Dio infinito si è fatto piccolo, l'uomo ha detto il Papa non è più solo ma è più orfano. L'anno si apre con questa novità. E noi la proclamiamo così dicendo Madre di Dio e la gioia di sapere che la nostra solitudine è vinta e la bellezza di saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci porta mai a essere tolta. È specchiarsi nel Dio fragile e bambino in braccio alla Madre e vedere che l'umanità è cara e sacra del Signore. Perciò servire la vita umana è servire Dio e ogni vita, da quella nel grembo della Madre a quella anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata.